Un caro saluto da Mario Giuliaci, il tempo previsto per lunedì 14 giugno. Ancora bel tempo su tutta l'Italia, ma caldo al centro-nord per una presenza ancora dell'anticicolone dell'Azzorra in forma anomala che sospingerà sul nord Italia e sulle regioni centrali aria più calda di origine subiotropicale. Avremo qualche fenomeno modesto e isolato, qualche temporale pomeridiano sulle Alpi piemontesi, sull'entroterra Ligure, sui rilievi laziali e sui rilievi calabri. Temperature in lieve calo rispetto a domenica, massime intorno a 30-32 gradi, su Piemonte, Lombardia, Toscana, Umbria e isole maggiore 24-28 sul resto dell'Italia.